Eccoci per quanto riguarda la partita dell'allenamento al centro sportivo di Formello, sono già in campo la prima squadra e la formazione primavera per quanto riguarda questa partita. Quindi Luis Alberto, pallone per Lazzari, si deve vedere con Lukaku, i due sono stati presenti in un duello spaventoso due anni fa, intanto occhio al pallone e di tacco segna Felipe Caicedo, un gol molto bello, dunque vantaggio della prima squadra, può inserirsi ancora Lazzari, quindi valla per Caicedo davanti alla porta, ancora Caicedo cerca di superare Proto, lo fa, però modalità tiro di destro non è proprio la cosa migliore per lui, anche se ci ha abituato a colpi anche con il piede, non di riferimento. Pallone per Luis Alberto, lo scatto ancora da parte di Gioni, viene subito messo nelle condizioni di operare il cross, arriva verso Basso, verso Caicedo, anticipato all'ultimo, poi ancora De Angelis, ancora De Cagne, davanti alla porta De Cagne, è un falco, non sbaglia, 2-0 con il gol numero due al ventesimo minuto di gioco. Finisce il primo tempo, dunque siamo sul 2-0, Luis Alberto dalla bandierina, anzi Parolo è ancora in campo, occhio a Caicedo che riesce a mettere il gol del 3-0, così come nel primo tempo il primo gol porta la sua firma, Lucas Leiva, Luis Alberto, c'è Patrick pronto a ricevere il cross che arriva adesso col sinistro, Caicedo di prima, poi ancora Parolo, il gol del 4-0 al quarto minuto di gioco. Luis Alberto, faccio scorrere il pallone per Lulic che può andare dritto in porta, c'è Guerriere che si piazza, intanto fra i pali, cross dentro, pica, poi Caicedo, Guerrieri, poi Caicedo per la De Cagne, è buono il pallone, ancora De Cagne, pallone dentro il secondo palo e poi c'è un clamoroso autogol. Caicedo, eccolo, a De Cagne, fa la cosa giusta ancora una volta, De Cagne e mette dentro il gol del 6-0, si rifà così. Quindi ancora tentativo di Luis Alberto, che prende un palo interno clamoroso dopo il derby, non è la cosa migliore, ma soprattutto la cosa migliore è questa, il gol di A De Cagne e finisce dunque 7-0 questa partita, tripletta di A De Cagne. Grazie a tutti.